Bella Regas, ciao Bella Regas, Jaguaré, Jaguaré, bella foto che ho trovato ragazzi, mamma mia! Jaguaré, quando trovo queste fotine e arrivano le view! Allora, innanzitutto, partiamo, la Jaguaré è una macchina che si è rivalutata a 115, 120, 130, dopo ve la faccio vedere, però volevo dirvi delle cagate che vi racconta la gente, sento dei commercianti, no? Allora, l'Eijay lascia restare 400.000 pezzi, tranne la C che ti ho fatto vedere che ne hanno fatte poche, che le altre là sono delle merde, non comprate dei jay. Poi qui bisogna fare un percorso riguardante le macchine d'epoca, che la gente ha in casa, molte vengono da eredità, da successioni, voi pensate che chi ha una Jaguaré sia povero? Quindi un mercato di ricchi, hai capito? Fermo, bloccato, i ricchi non esistono più, sono tutti poveri, il 90% della gente è sotto, sì, ricchissimi, ma non hanno le Jaguar, non hanno le Jaguar da 50.000 euro in casa, va bene? Ok. Allora, ti faccio vedere una cosa, questa qui è la Jaguaré, 139.000 euro, non 74, ok? Va bene? Allora, anche il paragone con le Rolls è una cagata, perché le Rolls valgono un cazzo, adesso te ne faccio vedere una, è un'altra cagata, non valgono niente le Rolls, 30.000 euro te la danno, è un insulto la Rolls, 30.000 euro, è un insulto la Rolls, ok? Le IJ non le devi comprare, valgono 2.000, sì, ci sono da 1.000, sì, ci sono buone da 1.000 euro, te lo dico io, le Presidente, le IJ no, a 3.000 non si, che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Sempre fare gli interessi dei commercianti, sempre fare gli interessi dei commercianti, questi commercianti che vendono le auto e sono nei club, porc, guarda, allora, Rolls, Rolls, guarda, regalata, 32.000, regalata, un insulto la Rolls, macchine che costavano 200.000, 300.000 dollari, ma di cosa parlate? Ma di cosa parlate? Ma di cosa parlate?